Ciao sono Ivan di Clinica del Camino Progetto Fuoco se stai guardando questo video è perché probabilmente stai cercando delle informazioni prima di procedere all'installazione di un qualsiasi generatore che sia legna, che sia la pelle, che sia gas informazioni sulle canne fumare e sulle tipologie di installazione in questa mini serie andremo a parlare di tutte le possibili configurazioni per installare una canna fumaria qui in fondo ti lascerò il link all'intera serie quindi vai a spruzzare e a cercare quello che è l'argomento di tuo interesse Ciao